Per la gioia di adulti e bambini è arrivato l'Universal Circus, con noi c'è Perla, allora è importante ricordare che fino al 12 gennaio qui nella zona dell'Arca Spoltore c'è questo grande circo, parliamo un po' di quello che offrite. Beh, noi ci sarà il circo tradizionale, classico circo, in più è un grande circo con tanti numeri, ci sono animali e pagliacci per i bambini naturalmente, in più è uno spettacolo un po' moderno, infatti ci sarà, vedrete dopo, una seconda pista rialzata con grandi scalinate dove lì ci saranno scenografie, coreografie nuove e moderne con le nostre ballerine e in più tutti gli artisti del circo. Ricordiamo gli orari, sono tantissimi gli orari, poi anche a cavallo delle festività. Sì, allora tutti i giorni alle 17.30 e 21.15, nei giorni festivi 16.30 e 18.30 e la serata di Capodanno invece inizia alle 22 perché ci sarà la festa, iniziamo alle 22 per finire alla mezzanotte e brindare, brinderemo tutti insieme agli artisti del circo, ci sarà la festa, la pista viene addobbata tipo discoteca, si balla, si canta, si gioca, ci saranno giochi per i bambini e un sacco di cose, buffet freddo, lenticchie, cotechino, spumante, panettone, di tutto. Abbiamo preparato di tutto. I bambini chiaramente amano tantissimo i pagliacci, sono i numeri più carini quelli dei pagliacci, oltre agli acrobati ovviamente. I pagliacci che giocheranno con i bambini durante lo spettacolo e durante lo spettacolo, durante l'intervallo, prima o dopo ci saranno sempre, noi collaboriamo molto con il pubblico. E per i grandi ci sono tante acrobazie, ci sono trapezisti, acrobati, c'è di tutto, veramente di tutto, è da vedere. Due parole sugli animali? Abbiamo gli elefanti, cavalli, lama, noi solitamente ne abbiamo tanti altri ma il piazzale è un po' stretto per il nostro circo che è molto grande e allora non l'abbiamo potuti portare tutti qua. Allora intramontabile l'amore per il circo, che momento vive il mondo dei cercenzi? Certo, il circo fortunatamente piace tantissimo ancora oggi perché noi comunque abbiamo uno spettacolo, come dicevo, moderno, ci stiamo modernizzando per farlo piacere anche ai giovani, non solo ai bambini. Qui a Pescara specialmente stiamo lavorando molto bene, il pubblico è contento del nostro spettacolo e ci vengono a vedere ripetutamente più volte, sono già venuti, perciò piace. L'appuntamento al circo anche a Capodanno? Certo, tutti i giorni anche a Capodanno, naturalmente. Noi vi aspettiamo! Noi vi aspettiamo!